Salve gente, sono Jack di Catana Pisa, siamo su Dark Souls 3 Stiamo continuando la nostra esplorazione nelle catacombe di Kartus Finora abbiamo ammazzato un bel po' di nemici Abbiamo ottenuto 7000 anime circa E non abbiamo ancora trovato nessun falò Qua sopra c'è la lucertola O è qua all'esterno? No, è all'esterno Mmm Io Direi che Cerco di darle fuoco No, Catroia No, maledizione No, non la voglio perdere Ma dove cazzo? L'ho ottenuta Che culo Meno male Devo togliermi sta cazzo di pelle ferrea Meno male che si è buttata di sotto Ok Ah, quindi di qua c'era soltanto Sì, solo la lucertolina Ok Perciò c'è veramente rimasto solo Solo quel punto insomma Vabbè sì qua Ok, torniamo indietro Allora 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 Di qua siamo venuti Di là siamo venuti prima Sì Ci rimane Sembra ci rimanga solo questa direzione E noi ci andiamo E poi successivamente utilizziamo il falò Per ritornare lì sopra E scendere da quell'altra parte Perciò Per ora Andiamo tranquillamente Per di qua Cazzo Cazzo Devo aver pestato un'altra trappola Che cazzo Gli scherzi sono per i cazzi loro Tra l'altro Ma è un nemico questa cosa Cioè fa avanti e indietro così No, 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 no Vaffangulo Vaffangulo Non è giusto Però non l'ho colpita Non l'ho colpita Mi ha fatto volare lei Indietro a me Prima che la toccassi Allora Cambiamo le nostre magie Ma Ah ecco qua Questa qua Sì Ok perfetto Così Ci possiamo Buttare di sotto Allegramente Perché non la posso usare? Ok Induci terrore Per essere utilizzata Aveva bisogno del ramo Non me lo ricordavo Allora Qua mi pare Non vi fossero nemici Ma La utilizziamo Ok Passi proprio Felpati Vabbè qua Non c'è nulla L'effetto Nel frattempo È finito Le mie anime Dove sono? Ok Per sicurezza Un'occhiata qua La diamo Quello ha una spada Un po' brilluccicosa Sarà solo un effetto? Vediamo il fuoco Quanto danno gli fa C'è preciso Com'è la mia spada Praticamente Quel masso proprio Cade A prescindere Questo masso di merda No Niente Non è il caso Questo qua Col cappellino Che stavo facendo Voglio vedere Prima un attimo Qua intorno Là sopra Ho preso tutto Mi sembra Sì Direi che Possiamo Tranquillamente Continuare Ah Wow Hai visto La pazienza È servita a qualcosa Alla fine Il masso Si distrugge Scheggia Adosso Di non morto Ah Qui c'è una leva Che ormai È distrutta Quindi siamo costretti Ovviamente Ad andare In questa Direzione Va bene ragazzi Questo video Lo chiudo qua Ci vediamo Nel prossimo In cui Andiamo a cercare Di raggiungere Quel falò Sì So Adesso Sì 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 Sì